Ovviamente aprire tutto uno scenario che adesso proveremo in qualche modo a cercare di capire. Intanto benvenuta Chiara, Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi ci siamo conosciuti, non so se ho fatto male, mi sono permesso di raccontare, nel momento in cui vi ho conosciuto, ho conosciuto tuo papà, ho conosciuto tua mamma, una famiglia tuo fratello, una famiglia straordinaria, una famiglia molto forte, con una grandissima dignità. E se posso permettermi di dire, salutando e ringraziando anche l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, che segue la famiglia di Giulia, la famiglia di Chiara, la famiglia di Tramontano, non ho sentito una parola di odio, non ho sentito una parola di rabbia, non ho sentito e ho percepito una straordinaria dignità da parte vostra. Grazie. Posso dirti una dignità di cui io non sarei capace? Non ti conosco da molto, però... sei una brava persona, come lo siamo noi, e credo che non siamo persone che si lasciano andare all'odio. Quando abbiamo perso Giulia, io mi sono sempre chiesta se pensassi durante l'arco della giornata più a mia sorella che avevo perso o a colui che me l'aveva strappata. non è una bravura e credo sia il dolore, non ne vuole arricare altro al mio corpo, io penso solo a mia sorella, non riesco a pensare a lui, sono pervasa solo dall'amore che provo per lei, da quanto mi manca, da quello che avrei potuto fare, dalla zia che sarei potuta essere, non riesco a pensare a lui e mi convincerò a vivere così. Non voglio farmi... non voglio che l'odio vinca su di me, perché sarebbe soltanto far vincere nuovamente lui sulla nostra famiglia. Chiara, c'è un ricordo che noi portiamo nel cuore delle persone speciali, delle persone che non ci sono più. Se tu dovessi pensare al ricordo, sempre che tu lo voglia condividere con noi, perché magari è un momento che invece dici no, voglio che rimanga per me, e in questo caso mi dici, guarda, me lo tengo per me, un ricordo di un momento particolarmente felice, quel momento in cui tu poi vai a rifugiarti, no, quando pensi a Chiara. A Giulia. A Giulia. Che tra l'altro vi somigliate tantissimo. Abituale, siamo cresciute che l'una veniva chiamata per il ruolo e col nome dell'altra. In cuor mio spero che mia mamma sbagli ancora, qualche volta mi chiami Giulia, così che possa ancora rievocare il suo nome. Ci sono tantissimi ricordi. Noi siamo stati due sorelle, credo come tutte le sorelle, che hanno discusso tanto. Eravamo due coetane, quindi abbiamo discusso tanto per... rubavamo i vestiti l'una dell'altra. Uno dei ricordi più comuni è che io avevo, all'incirca 13-14 anni, avevo rubato in effetti il suo giubbino di pelle. Poi ero uscita di nascosto e credevo di averla fatta franca. Poi sono in effetti uscita sul corso del mio paese e me la sono trovata diviso e lei mi ha costretto a togliere il giubbino davanti a tutti, dicendo ora devi restituirmelo perché lo cercavo da quando si è andata via. Poi i ricordi più dolci li ho avuto quando ho scoperto che sarei diventata zia perché è stato un continuo a inviarsi foto di pagliaccetti, vestiti, non so. Io non desidero un figlio a breve, però sapere di avere un nipote... non l'ho avuto, però per me è come l'ho avuto, perché ho vissuto quei giorni come una gioia che non riavrò più e non riconduca a nessun altro evento della mia vita. È possibile che la gioia sconfinata che Giulia provava in quei giorni per l'attesa di Tiago abbia in qualche modo fatto sì che i problemi con Alessandro, quelli magari anche più evidenti, fossero soppiti, fossero messi da parte? Per cui con te condivideva solo questa grande attesa, no? Solo il fatto di... Io ho conosciuto gioia e dolori di quel momento. Credo che sia nell'animo di tutti quelli che sono cresciuti in una famiglia unita. Ogni famiglia ha le sue difficoltà. Si arriva nell'adolescenza che, se ci guardiamo indietro, i nostri genitori hanno discusso tantissimo, no? E quindi nel tirare le somme sappiamo qual è il sacrificio di due genitori di tenere una famiglia unita e di continuare a vivere insieme nonostante poi ne accadono tantissimi di eventi. Magari Giulia come figlia aveva lo specchio di questa famiglia e anche di fronte a qualche tribolazione, di fronte a qualche difficoltà che aveva con il suo compagno ha pensato che valeva la pena affidare a Tiago una famiglia unita come quella che aveva avuto lei e quindi potrebbe aver messo da parte dei dispiaceri. Certamente non pensava di vivere con un essere inumano, quindi può aver messo da parte un dispiacere ma non può aver chiuso gli occhi davanti a qualche segno qualora ce ne fosse stato. L'amore per Tiago, la voglia di dargli una famiglia, la voglia di avere il papà di Tiago accanto a lei può averla portata anche a perdonare, no? quello che poi noi sappiamo. Perdonare non fino all'ultimo giorno, se vi posso permettere. Nel senso che il figlio le ha dato la forza di andare all'incontro con l'altra donna e di non chiamare nessuno dei suoi familiari. Noi abbiamo un rapporto quasi morboso con i nostri genitori, del tipo papà sto uscendo, fammi compagnia al telefono, ho paura di rientrare, mamma sto uscendo, aiutami a calmarmi, sono arrabbiata, è un continuo essere in contatto. Lei aveva la forza di due persone, è andata all'incontro, non ha avvisato nessuno, è tornata, ma non è tornata per perdonare, è tornata per mettere definitivamente se stessa prima di chiunque altro. Forse mia sorella questo avrei voluto che avesse fatto di più nella sua vita, mettersi in primo piano, perché se l'avesse fatto forse oggi ci saremmo incontrati in un contesto diverso e ci saremmo conosciuti per un altro motivo. Tu, vedo che non lo chiami per nome, posso capire, tu l'assassino di Giulia l'hai visto, l'hai conosciuto, hai avuto modo di frequentarlo, hai avuto modo di... Allora di... Prego. Di conoscerlo. Di frequentarlo? No. Mia sorella viveva a Milano e quando la frequentazione con il suo assassino è andata poi in porto e hanno iniziato una convivenza, io vivevo in Finlandia, era il periodo del Covid, quindi rientrare in Italia non era semplice, gli spostamenti già interregioni erano complicati e dalla Finlandia lo erano ancora di più. Quindi lo conoscevo tramite videochiamata, perché la nostra abitudine familiare era quella di videochiamarsi a cena e poi attraverso i racconti di mia sorella che il più delle volte, ammetto, non sono mai stati... Raramente condividevamo momenti in cui lei si vantava di lui, il più delle volte ne parlavamo perché ne era sfinita dalle delusioni e quindi la mia, ovviamente, opinione di questa persona non è mai stata una opinione positiva. L'ho conosciuto una sola volta di persona. Allora, quello che a noi ha colpito dei passaggi di questi giorni, adesso lo commentiamo subito anche con l'avvocato, con l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, è anche l'atteggiamento che questo ragazzo, oltre ovviamente a quello che ha fatto, ma su questo non ci dilunghiamo, perché un uomo, se così si può chiamare una persona che avvelena, cerca di avvelenare la sua compagna, la madre del suo figlio e il bimbo che porta in grembo, poi la uccide in quella maniera e si comporta come si è comparato lui, è difficile, diciamo, commentare quello che ha fatto. Diciamo che più che difficile è inutile. Forse ci può aiutare a capire un po' chi è questa persona anche dall'analisi di quello che è accaduto dopo l'omicidio di Giulia e di Tiago. Sentite, Rianna Giunti. Pensate che sabato scorso ero in Monte Napoleone a bere un caffè e ora sono qui, con un ergastolo. È la prima frase quasi sarcastica che Alessandro Impagnatello pronuncia appena varca per la prima volta la soglia del carcere di San Vittore, lucido, impassibile, a tratti sfrontato, capace di non versare neppure una lacrima per Giulia e per suo figlio. È il primo giugno 2023, siamo a quattro giorni dall'omicidio di Giulia e del piccolo Tiago. Il trentenne, capo barman di uno dei locali più esclusivi di Milano, riceve immediatamente una prima visita da parte di due specialisti della casa circondariale, una psicologa e una psichiatra. Davanti alle due dottoresse appare perfettamente a proprio agio, al punto tale da passare direttamente a un confidenziale tu. Nel suo racconto è lucido, sostiene lo sguardo, appare impassibile. L'unico momento di pianto lo riserva alla propria madre e al fratello maggiore, che, dice, soffriranno perché erano molto legati a Giulia. Ma è la sua prima esternazione a rimanere impressa le due professioniste al punto tale che viene trascritta nella relazione. Sabato scorso ero in Monte Napoleone a bere un caffè e ora sono qui con un ergastolo. Durante la visita ripercorre la sua infanzia, racconta la separazione dei genitori e dei conflitti in famiglia, a causa dei molti debiti che suo padre avrebbe lasciato a carico della mamma. Riferisce di non avere problemi a dormire, si informa su come si svolge la vita quotidiana a San Vittore e non sembra preoccupato. Ma una preoccupazione, effettivamente, ce l'ha e la risolve il 28 agosto, quando attraverso una scrittura privata riesce a ottenere il passaggio di proprietà della sua auto, una Volkswagen A1 del valore di circa 24 mila euro, che ora risulta intestata alla compagna di suo fratello. Si tratta della stessa auto sulla quale ha trasportato il corpo di Giulia. A volte è anche difficile rientrare da queste ricostruzioni. Io evito di farti domande su questo punto, Chiara, però verrebbe da chiederti, ma tu puoi immaginare uno che arriva e davanti e la prima cosa che dice ma guarda, ieri ero a prendere il caffè a Monte Napoleone, adesso sono a San Vittore. Può essere l'esordio. Ma anche è abbastanza sconcertante che ritiene che il punto di maggiore dolore lo abbia recato ai suoi familiari per chi amavano Giulia. Credo che, a parte che semmai può pronunciare la parola amore, quella persona è assolutamente un'unghia rispetto al vero significato, ma poi assolutamente non è la famiglia sua ad aver amato Giulia o a soffrire. Credo che, a me, non so neanche in che termini posso esprimermi, però la sua via a Chieria è tale che se il suo pensiero sfiorasse la mia famiglia dovrebbe rendersi di conto di quello che veramente ha fatto e allora preferisce pensare a cosa fa meno male, al dolore che ha recato ai suoi familiari, dovrebbe pensare a quello che ha recato a noi, a cosa ci ha tolto, dovrebbe pensare non tanto al dolore che ha recato alla sua famiglia. Ti rimane un po' però di paura, di timore, quando tu riaffermi questo tuo sacrosanto, vostro sacrosanto diritto. Hai un po' di paura che invece... Sì, sono fiduciosa perché anche il nostro legale ci dà coraggio e perché non si inizia una battaglia, ecco, sconfitti, chi si approccia a combattere con un senso di sconfitta ha in parte già perso. È perché anche attraverso ogni nostra testimonianza noi cercheremo di portare i giudici a prendere la giusta decisione. Però ammetto che poi da quando ho perso mia sorella ascolto molto di più le storie di famiglie che non hanno ricevuto una pena esemplare. Magari non ci sono stati casi così eclatanti, non c'erano quattro aggravanti da ergastolo, non c'era un bambino quasi nato e quindi temo che tra dieci anni mi rinviterai perché scopriremo che non c'è stato un ergastolo e che potrei vedere la stazione di mia sorella per strada. Però ora volevo attraverso quel posto soltanto che portare Giulia in aula con noi, ma non come la sorella di Chiara che chiede giustizia, come la figlia di tutti, la sorella di tutti, la mamma e tutte le mamme che avrebbero dovuto cullare i propri figli e che non l'hanno potuto fare per via di una mano violenta. Quindi io spero che l'ergastolo ci sia e che lui marcisca in carcere. Non mi auguro nient'altro di diverso.